eccoci qua con la seconda parte ho chiuso salutando il sindaco di casa la mano di colarizzo chiedendomi chissà che cosa ci verrà a raccontare maurizio miceli io sono in studio intanto gli do il benvenuto 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 miceli continuiamo a darci io del tu e tu del lei giusto sì questa trafila la portiamo avanti est modus in rebus come va torno adesso da catania e infatti è uno dei motivi per cui ho avuto il piacere di averti vostro grazie ovviamente per l'invito a catania abbiamo partecipato con la provincia di trap a manifestazione la giornata tricolore regionale che quest'anno è stata più ricca di altri anni ovviamente con la pausa covit purtroppo questi eventi anche più colorita poi un po ci arriviamo capisco cosa fare la manifestazione è riuscitissima infatti bisogna fare complimenti al partito catanese che banto ovviamente senatori ministri è stata importante sotto il profilo comunitario identitario sotto il profilo appunto del dibattito sapete che oggi le vicende siciliane sono nell'interesse del governo la vicenda lucoil su tutte ci sono 10 mila posti di lavoro ma non solo si è parlato di sistema fiscale si è parlato di agricoltura e pesca perché il combattimento di agricoltura e pesca non è da meno certo anzi di una lunga maggiore in termini di occupazione di redditività rispetto a quello della lucoil vedete è un partito che sta affrontando una sfida che attendavamo mai da diverso tempo il ritorno a un'azione di governo diciamo a guida centrodestra in questo caso a guida fratelli italia è stato importante sia per confrontarci con tutti i nostri riferimenti regionali e nazionali sia per iniziare a mettere importanti dossier a frutto e incardinare quello che deve essere il piano di sviluppo del territorio questo il nostro onorevole regionale nicola catania è stato fruttuosissimo il suo intervento parlato sia in materia di enti locali che da vice vicario del gruppo parlamentare regionale il nostro capogruppo dell'onorevole assenza e poi da vice presidente della commissione attività produttive e giustamente faceva una considerazione pnrr dice la commissione deve avere non solo una valutazione rispetto alla progettualità ma anche rispetto alla rendicontazione di quanto dello stato dei lavori lo stato dell'arte perché se noi non abbiamo contezza che punto siamo della notte non possiamo proseguire non possiamo immaginare ovviamente il resto devo dire che è stata lo dico in termini come dire un po più sporchi è stata molto bella perché vedere stare nel proprio ambiente politico parlare con la stessa lingua sentire una coene comune in appartenenza innamorati tutti della sicilia e dell'italia guardando al grande sogno di fare un'azione di governo per cinque anni e magari di più che possa essere veramente rivoluzionaria o di rinnovamento meglio ancora della situazione italiana viceri a livello nazionale probabilmente sì insomma i cinque anni ci stanno tutti ma livello regionale certo questo governo non è esordito con la grande coesione che tutti aspettavamo e non è colpa di schifani probabilmente presidente schifani è una figura io ho avuto il piacere di conoscerlo proprio nella giornata di ieri personalmente abbiamo avuto modo di confrontarci su tanti temi compresa trapani e il presidente è una persona di un garbo d'altronde è stata la seconda carica dello stato fu scelta come seconda carica dello stato per la sua capacità di essere trasversale anche oltre gli schieramenti è una figura di alto calibro istituzionale sicuramente c'è qualche accento diciamo in questo nuovo parlamento regionale non ne facciamo mistero però è un accento dovuto a personalismi e a rivendicazioni che non interessò francamente il mio partito che ha una sua linearità una sua azione pur nel dibattito interno nel confronto ma che poi come avete visto ha risolto qualsiasi tipo di noto rispetto alle delle case sessoriali ai soggetti che dovevano occupare quegli schiani e quindi alla composizione degli ruoli interni all'assemblea regionale in altri partiti ci sono state situazioni di fibrillazione ma non competono certo a me insomma andarle a sindacare tanto meno a commentare insomma gli alleati sono alleati fino in fondo se c'è qualcuno che ha qualche svarione sarà un problema di quel partito o di quel riferimento occupato vogliamo parlare un po' delle nomine da poco ufficializzate in fratelli italia per la provincia di trapani alla fratelli italia ovviamente le regionali sono state l'appuntamento tanto atteso non ci aspettavamo che contestualmente le regionali ci potessero essere le politiche ma tanto è stato le regionali fratelli italia dimostrato di avere un consenso popolare importantissimo in tutta italia ovviamente vi aspettavate di arrivare dopo il pd ma in realtà non potevamo non potevamo calibrare il portato del consenso cosiddetto d'opinione puro rispetto ai riferimenti c'era da dire che nel pd c'è stata una lotta fra soggetti di calibro insomma c'era il segretario provinciale sindaco di salemi e comunque l'assessore anzi scusatemi il consulente gratuito del sindaco Tranchida che fungeva sostanzialmente da assessore perché non è stato sostituito non veniva compensato ma entrava negli uffici e si muoveva diciamo more assessoriale quindi insomma che era sostenuto dall'amministrazione comunale in troppo qualche punto di diversificazione rispetto ad altre candidature regionali e quindi c'era questo confronto molto forte all'interno del partito democratico che ha creato una competizione importante da noi è stato diverso perché il consenso destinato a fratelli d'italia è un consenso viscerale nei confronti del progetto politico e nella fiducia nei confronti di Giorgio Meloni un sindaco un ex sindaco anche voi avete messo su una squadra non c'è dubbio però dovete tenere in considerazione un dato il sindaco Catania si è avvicinato al partito a parte che è sempre stato vicino al partito perché è stata una segreteria dell'assessore strano eccetera ma poi infatti è stato bello fra parentesi proprio a Catania che vedevamo che Nicola anche se ha diciamo una storia un po' più moderata era assolutamente di casa perché appunto è nel partito sostanzialmente ormai da vent'anni a trent'anni Nicola Catania è il sindaco in carica è una figura molto stimata è coordinatore dei sindaci del Belice presidente di SRR cioè una figura che è inattivo in politica insomma che ha una sua spendibilità costante Peppe Bica sindaco competentissimo assessore provinciale una figura di spessore che rappresenta molto la storia dell'altro però Peppe Bica non si confrontava in una competizione elettorale regionale dal 2006 e non è più sindaco di Gusto Naci dopo il famoso ricorso di Morfino quindi comunque non aveva la stessa visibilità invece di assessori o sindaci in carica di altri partiti o presidente di consiglio di comuni sopra i 15 mila abitanti eccetera quindi non era proprio la stessa cosa e nonostante questo ha fatto un risultato assolutamente entusiasmante perché tanto è che è stato riconosciuto un ruolo nell'organigramma provinciale assolutamente ma l'organigramma provinciale che abbiamo costituito è un punto di partenza perché lo allargheremo ancora e poi faremo anche dipartimenti perché ci sono tante anime in questo partito sia di gente che ovviamente come dire puro sangue cioè che ha i galloni sul campo nella storia della destra trapanese e italiana altri invece che appunto si sono avvicinate perché Fratelli d'Italia non è più da considerarsi il semplice erede del movimento sociale italiano Fratelli d'Italia è qualcosa di più, Giorgio Meloni in un intervento lo disse in maniera molto brillante dice Fratelli d'Italia vuole essere quello che volevamo fosse il PDL ma che poi non è stato cioè non vogliamo essere il grande partito della nazione di questa Italia e in questo senso ovviamente vogliamo che l'inclusività comprenda tutte le anime anche non proprio ortodossi diciamo di destra L'esordio di Meloni però insomma un po' riceve qualche bacchettata Ne posso dire una cosa? Le bacchettate delle opposizioni al governo? Beh e non solo delle opposizioni No, non mi pare che ci siano contrasti Beh organismi sovranazionali insomma sanno dire Agli organismi sovranazionali è chiaro che stiamo attenti, siamo in un momento di equilibri strani a livello internazionale cioè un governo Meloni per come è concepita la destra del resto del mondo in maniera molto drogata secondo me devono prendere le misure rispetto a un governo che al contrario di quelli precedenti noi veniamo da 11 anni di sostanziale commissariamento o soluzione di inciucio devono prendere le misure davanti a una leader che ha come obiettivo principale difendere l'interesse della nazione italiana e quando succede che l'Ocean Viking scusate per la pronuncia inglese l'Ocean Viking credo si pronuncia va in Francia per la prima volta perché batte bandiera francese e questo è un fatto storico non è un fatto di poco momento perché non è mai successo negli anni precedenti perché, signori, tutti ci assumiamo la responsabilità delle vicende che interessano il Mediterraneo ma non è perché l'Italia è un paese di frontiera è perché c'è la Convenzione di Dublino possiamo fare finta che il resto dell'Europa non esista e su questo, che è uno dei temi, Giorgia Meloni è intervenuta così come è intervenuta, lo dico a tutti i miei coetanei, a tutte le coppie giovani, a tutti coloro che hanno figli Giorgia Meloni ha raddoppiato l'assegno unico ha ridotto l'IVA sui pannolini, sui beni di prima necessità dei minori cioè ha instillato a condizioni disponibili stiamo combattendo il caro Bollette abbiamo fatto un'operazione importante per mettere di nuovo un criterio di merito pure nei sussidi il reddito di cittadinanza per chi è in difficoltà rimane per chi è in gravidanza e non può lavorare rimane per chi ha un'età o delle condizioni per cui non può essere adeguato al lavoro rimane ma per chi è in età da lavoro si sbracciasse le maniche e andasse a lavorare ovviamente lo Stato, i controlli rispetto al lavoro dovranno garantire che chi garantisce il servizio professionale quindi assume la gente abbia la capacità di riconoscere un compenso adeguato alla prestazione lavorativa e in questo senso il governo ha pensato anche alla defiscalizzazione di tutti coloro che assumono l'Under 35 questa è l'Italia che vuole Giorgia Meloni un'Italia in cui l'impresa scommette sui giovani ma questa cosa della leva obbligatoria intanto non è rigidamente obbligatoria come lo era ante l'Itteram è giusto? è una materia molto complessa perché è stata rideterminata proprio la configurazione degli UFPU insomma è complicata non voglio mettermi a parlare di una cosa così delicata però l'idea è certamente quella sa cosa cambia in questa Italia di oggi? è che mancano o quantomeno sono affievoliti gli strumenti che danno la possibilità ai cittadini di avere una formazione di qualsiasi tipo e la capacità di comprendere la realtà in cui ci troviamo per esempio una delle proposte che stiamo portando avanti è quella anche di impontare l'Italia verso la leva obbligatoria non in quella maniera rigida ma anche verso i servizi sociali cioè la gente, soprattutto i giovani per avere una maturazione anche più permeata di quella che è la società, la vita, le difficoltà delle persone o il senso dell'ordine deve avere il confronto con quelle che sono le realtà drammatiche di questa Italia e purtroppo ce ne sono tantissime io ho amici che fanno gli educatori sociali lavoro nei servizi sociali che mi rappresentano di continuo le realtà disagiate che ci sono e quando si entra in contatto con le realtà disagiate direttore e lei che fa il giornalista conosce il territorio e conosce queste dimensioni lei sa meglio di me che qualcosa scatta qualcosa scatta nell'ambito di un senso di generosità di solidarietà, di senso di appartenenza comunitaria Miseri, quando parli di formazione io condivido c'è necessità di avere un popolo più consapevole certamente al di là della formazione ma la consapevolezza per esempio la ritroviamo nelle parole del senatore Lucio Malano? allora la contestazione sul fatto che lui ha preso la Bibbia dice nella Bibbia l'omosessualità è un abominio è il caso mediatico di questi giorni insomma trattato e ritrattato le posso dire una cosa non voglio commentare a quella dichiarazione di Malano perché quella dichiarazione secondo me è decontestualizzata il senatore Malano che è il nostro capogruppo peraltro ha dato una sua ha chiarito insomma il concetto fra l'altro il senatore Malano è una persona fra l'altro molto legata alla propria concezione spirituale è un valdese rappresentante della chiesa valdese è una persona di alto spessore sicuramente ci sarà stato un equivoco nell'espressione e nel contesto di riferimento ma il nostro partito su questi temi ha preso una posizione chiara Giorgio Emanino ha detto che non vuole assolutamente modificare i dico che sono appunto i pax francesi cioè le unioni di fatto cosiddette e che rispetto ai diritti vorrà far sì che sia il Parlamento a pronunciarsi perché il Parlamento è la sede in cui i temi che hanno cosiddetti un valore etico devono essere portati all'attenzione per alimentare un dibattito perché sono temi diciamo di estrema delicatezza poi non è nuovo lei al fatto che il nostro partito rispetto all'omisessualità eccetera non ha alcun tipo di ambiguità basta solo pensare che lei ha invitato uno dei nostri migliori dirigenti storici che è Mario Ravetto non vedo l'ora di averlo di nuovo ospite faremo il tutto per ricordarlo qui di ampia alta cultura una persona di un altissimo spessore Mario Ravetto insomma è dichiarato omosessuale nel nostro partito non ha mai avuto alcun tipo di appunto anzi ma noi abbiamo avuto anche nel movimento sociale ma ripeto è un falso problema purtroppo dato che non ci possono attaccare su questioni di merito ci devono attaccare su suggestioni per dire che sono sporchi, brutti e cattivi sai qual è il dramma di questo paese direttore? che non c'è un'opposizione devo dire che bisogna quindi come a Trapani non c'è un'opposizione è diverso ora c'è rilevato devo dire che l'unico accento di un'opposizione seria e responsabile bisogna riconoscerlo è stato Calenda il movimento di Renzi è Calenda sia nelle dichiarazioni che la prendete con voi lo annoverate diventa la stampella eventualmente no ma perché bisogna banalizzare le cose è una questione semplice Calenda dice il governo ha proposto una manovra finanziaria io ritengo che questa manovra finanziaria tutto sommato vada bene ma ci siano degli appunti che secondo me possono essere d'aiuto alla governanza del paese si è incontrato con la Giorgia Meloni col presidente Meloni al Palazzo Chigi un incontro istituzionale Giorgia Meloni ha reputato alcune delle proposte di Calenda assolutamente valide questa è la politica noi abbiamo una proposta se si può migliorare quella proposta si interviene su quella proposta diventa legge per il bene di tutti cosa che partigianamente invece non fanno i 5 stelle che d'altronde si stanno facendo le barricate su uno dei motivi purtroppo ha spinto questo forte consenso che è il metadone di Stato per questo reddito di cittadinanza ripeto che non è un strumento nessuno strumento è ontologicamente diabolico o positivo è sempre come viene usato e come viene calmerato secondo me la proposta di Giorgia Meloni è semplice quella di dire ma un ragazzo di 23 anni ma gli diamo il reddito di cittadinanza dobbiamo immetterlo nel mercato del lavoro e allora a posto di spendere un miliardo per quella fascia d'età per dargli un sussidio che non gli restituisce nulla in termini di formazione di competenza gli fa perdere gli anni migliori dell'apprendimento professionale lavorativo io lo do a un'impresa che viene agevolata perché non paga le tasse per quell'assunzione perché ci pensa lo Stato e forma un ragazzo e magari lo emette magari è un contributo all'azienda in generale crescita dico è così elementare io penso quando il nostro leader parla ha una caratteristica che altri non hanno crede in quello che dice e lo spiega in un modo così semplice elementare chiaro anche questione di una certa complicità che voglio dire insomma sono degni di merito e sono stati ben riconosciuti dagli italiani che ci hanno tributato un 26% insomma di ultima lezione Travani Travani la domanda aspetti Valera la domanda ho fatto un battuto non c'è l'opposizione come non c'è a Trapani dire che non c'è opposizione a Trapani è in generoso è in generoso nei confronti dei consiglieri comunali che devo dire soprattutto alcuni fanno un'attività ispettiva di controllo di studio di proposta che è incomiabile poi uno può condividere una cosa allora c'è poca facciamo così c'è poca opposizione no no secondo me c'è un'opposizione coriace in consiglio stiamo attenti è anche vero che le condizioni di Trapani furono strane fin dall'inizio perché col nuovo sistema elettorale purtroppo si vince col 40% ma chi supera il 60% come liste in camera ha più consiglieri del previsto quindi oltre più di maggioranza quindi noi in consiglio comunale nasce una minoranza che oggettivamente oltre ad essere disomogenea perché ci sono i 5 stelle ovviamente insomma è una sparuta pattuglia poi man mano si è implementata perché chi aveva sposato il programma di Tranchita o anche la capacità di Tranchita è riputato che non fosse più adeguata e ha preso un altro percorso l'opposizione politica è vittima di di quelle che sono stati fatti nel 2017 guardate che riprendersi dei fatti del 2017 è cosa facile è per il comune che c'è stato il commissariamento con tutto ciò che ha comportato ma non è cosa facile per quanto riguarda quelli che erano gli esponenti del centro-destra noi stiamo facendo un grande lavoro di ricostruzione devo dire che domanda fermo un attimo ma c'è il centro-destra nella città di Trapani? guardi il centro-destra allora distinguiamo come sensibilità qual è la sensazione comune che è sempre per le strade che dopo il senatore Dari il centro-destra non c'è stato più beh ragazzi non è che stiamo parlando di figure che sono state in passant rispetto alla politica locale parliamo di gente che ha amministrato e alla grande e alla grande mi riferisco al sindaco dell'epoca e al senatore dell'epoca hanno amministrato questa città cambiandola nei suoi connotati principali totalmente non mi va di citare sempre l'America's Cup perché poi sembra che c'è solo l'America's Cup che è stata una grandissima iniziativa ma tutto il resto dico in quest'ottica quando crollano per motivi di natura diversa da quella politica poi aspettiamo cosa sono votazioni di altra natura in altra sede che non mi interessa fare qua dico capisci bene che c'è uno spesamento tant'è vero che quando Tranchida scende in campo c'è un vuoto pneumatico perché la classe dirigente era spesata e molti si sono per usare un termine più vocale consegnati a diciamo il buono disponibile subito perché era il sindaco con chiave in mano poi si è dimostrato incapace anche di ordinare l'amministrazione questo è un altro pari animali oggi c'è un sentimento di centrodestra forte a Trapani sicuramente l'erede di questo centrodestra è Maurizio Miceri? no gli eredi di questo centrodestra sono tutti coloro che hanno partecipato idealmente a questo centrodestra non esiste una figura che si può dichiarare erede esclusivo di una sensibilità culturale ricordatevi che Trapani è una città ricorderete meglio di me che Trapani è la provincia più azzurra d'Italia Trapani ha votato sempre ma forza Italia quasi non esiste più a Trapani ma state attenti senza quasi state attenti forza Italia ha delle parte che sono dinamiche che riguardano appunto un altro partito ma forza Italia però ha espresso alle ultime regionali un deputato regionale che è Stefano Pellegrino a cui non gli si può dire ha rispetto a capacità competenza e coscienza del territorio è un assessore regionale Tony Scilla che è stato assessore per due anni credo all'agricoltura e pesca che sono uno dei settori più importanti di Sicilia quindi che forza Italia possiamo dire che non esiste perché hanno le loro strutture è chiaro che bisogna ripartire tutti insieme perché se non c'è un progetto ed è lì il punto notale se non c'è un progetto di entusiasmo non esistono eredi non esistono comparsi non esistono protagonisti soltanto il progetto in continuità ideale con quelli che sono i parametri del centro-destra regionale e nazionale può consentire l'entusiasmo di una generazione che ha perso i suoi riferimenti su Trapani l'entusiasmo ad Erice portò a tre altre candidature a quella della Toscana su Trapani non è che magari ci sarà troppo entusiasmo Erice è un'esperienza diversa ed era vittima questo è notorio di dinamiche che riguardavano purtroppo gli appuntamenti elettorali contestuali o di poco prossimi punto quindi Erice non insisto oltre per quanto riguarda Trapani le posso dire una verità non è che non è successo niente tra Erice e Trapani tra Erice e Trapani che si vota fino a maggio insomma nella tarda primavera dell'anno prossimo è successo che c'è stata una votazione regionale una votazione nazionale e ha vinto il centro-destra e a Trapani il centro-destra ha preso l'80% dei consensi se sommiamo ovviamente tutte le anime quando siamo davanti il 60 scusi quando siamo davanti a questa a questa composizione a questa sensibilità c'è il cosiddetto allineamento dei pianeti voi immaginate se Trapani riesca ad avere un'amministrazione di centro-destra allargata al civismo al civismo quello attivo non quello di facciata un esempio di civismo attivo e lei sa quanto io ho combattuto contro la nascita del comune di amici di amici di scemi va riconosciuto l'esempio l'emblema di civismo attivo è inevitabilmente il progetto di Salvatore Tallarita e degli amici di scemi loro hanno dimostrato che su una battaglia localistica municipale civica pura hanno lavorato e lottato anni io sono stato uno dei loro avversari quindi gli riconosco l'onore delle anime ma soprattutto il fatto che hanno portato a casa il loro risultato va riconosciuto onore al merito per la capacità di generare entusiasmo su un progetto di natura amministrativa non è facile noi stiamo facendo stiamo cercando di fare lo stesso con gli alleati sono convinto che se un'amministrazione di centrodestra a Trapani in allineamento di pianeti diciamo così con Palermo con la regione e con Roma e ovviamente con i nostri riferimenti a Bruxelles può diventare la grande occasione della città nell'era del PNR ma ne sta parlando questo centrodestra di questa eventualità si sono riunioni in corso a tutti i livelli Trapani è una piazza importante Trapani guardate Trapani è più importante di quello che forse gli stessi trapanesi pensano perché una città che per molti profili soprattutto per il porto ha un profilo strategico regionale nel Mediterraneo ed è una città su cui si vuole investire molto non solo per il recupero della Colombaia che fa parte ovviamente delle tante iniziative del governo regionale in termini infrastrutturali guardate proprio al convegno di Catania alla manifestazione di Catania il nostro vicario alla Camera il capogruppo vicario Maglio Messina come lei sa già assessore regional turismo ci diceva che le Canarie quindi Fuerteventura Lanzarote eccetera Ante Nerife hanno 95 milioni di visitatori l'anno la Sicilia ne ha 5 milioni quanto Malta ora quando le Canarie che credetemi non sono perché da belle isole dal punto di vista naturalistico io sono stato lì recentemente non c'è nulla di straordinario alle Canarie grandi bei paesaggi eccetera fra l'altro sono difficili da arrivare da una certa parte d'Europa perché comunque ci sono molte ore di volo ma la Sicilia non ha nulla da diciamo non ha timore di confrontarsi con nessun'altra isola del mondo il fatto che ci siano 5 milioni di turisti l'anno è ridicolo quindi se per esempio Maurizio Miceli decidesse lui e chi per lui insomma di candidarsi al sindaco e dovesse diventare sindaco una delle prime cose in ambito turistico che farebbe o quale sarebbe? no 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 guardi questa domanda non le rispondo non le rispondo per come vorrebbe che risponda lei lei pensi che noi abbiamo noi abbiamo stiamo lavorando con gli alleati per trovare una proposta politica e un interprete palido Giacomo Tranchida è in un momento di difficoltà per i tanti errori che riguardano ripeto l'ordinaria amministrazione l'assenza di eventi straordinaria la confusione gestionale l'assenza di una visione politica noi non possiamo permetterci di fare il compitino perché il compitino sarebbe risibile da contrapporre a questa realtà cosa significa per compitino il compitino semplicemente fare una proposta che riguarda isolatamente due o tre questioni di minimo cabotaggio e poi fare un'opposizione con la bava alla bocca o una proposta che nasce dalla bava alla bocca noi dobbiamo fare una proposta politica noi dobbiamo fare capire trapanesi intanto far risorgere loro l'orgoglio di essere trapanesi e poi ovviamente guardare una prospettiva per cui possano credere che Trapani sia una città dove la gente vuole andare a vivere nell'arco dei prossimi vent'anni Palermo nelle ultime classifiche è considerata fra le prime mete al mondo dove poter andare a vivere per andare a lavorare in smart working queste sono delle dimensioni che l'amministrazione anche per motivi anagrafici mi consente di dirlo non può immaginare noi dobbiamo sognare questa trapa e noi dobbiamo sognare progetti di sviluppo se non c'è sviluppo non c'è impresa non c'è realtà imprenditoriale non torna nessuno trapanesi io sono uno dei figli di questa città che è andato a vivere fuori a studiare fuori che ha lo studio a Roma che è tornato per amore per nostalgia per malinconia perché ci credo e credetevi non ci vuole molto a realizzare quelle tre quattro infrastrutture che possono consentire il rilancio della città perché non possiamo pensare sempre che noi abbiamo il pretorio sotto e noi lo sappiamo utilizzare che è il turismo perché dobbiamo porci il problema perché non si è mai lanciato questo turismo non possiamo porci il problema perché Trapani non può essere di nuovo centrale nell'azione infrastrutturale del Mediterraneo e questa è la sfida e non è una sfida che possiamo ridimensionare a facciamo questo facciamo quest'altro bisogna fare una visione di insieme ci stiamo lavorando credetemi io sono convinto che Trapani può offrire tanto perché abbiamo una storia che neanche conosciamo pensate una banalità ne discutevo qualche ora fa proprio con un caro amico ma voi lo sapete che il primo presidente del senato del regno d'Italia del senato insediato sia a Roma a Palazzo Madama è il marchese di Torrearsa Vincenzo Fardella lo sapete che è stato il primo prefetto di Firenze capitale d'Italia è stato Vincenzo Fardella è la piazza dove c'è l'attuale prefettura di Firenze e Vincenzo Fardella voi potete immaginare che cosa hanno fatto i trapanesi del mondo aspettate vi dico di più Enrico Fardella il fratello non voglio fare un focus su Fardella perché ne parlavo poco fa c'è un suo busto nel museo civico americano perché ha partecipato alla guerra di secessione cioè non possiamo neanche immaginare noi potremmo vivere di storia potremmo tutte le eccellenze trapanesi che ci sono che sono tuttora viventi attive all'estero i nostri giovani me coetane potrebbero farvi un elenco di amici che hanno successo a Milano in Svizzera negli Stati Uniti di America che non vedono l'ora di dare un progetto dobbiamo chiudere vedi è arrivato è arrivato Pino dalla regia ti faccio la domanda la cambio è la stessa di poco fa la cambio però vediamo se la faccio politica lì corretta se dovessero chiedere un sacrificio a Maurizio Miceli i sacrifici sono agli dei i sacrifici sono agli dei no veramente ragazzi il progetto politico è la cosa più importante ragazzi dice lui mi dà del lema come dice ragazzi la voglio ma io sono bianca direttore me la voglio incoraggiare noi dobbiamo fare un grande progetto ci stiamo lavorando e sono convinto che a stretto giro lo proporremo alla città perché l'attuale amministrazione ci propone un cammino verso il barro noi come diceva Filippo Tommaso Marinetti leggiamo la nostra sfida alle stelle è stato con noi Maurizio Miceli coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia grazie ha detto delle cose tra le righe chi è bravo riuscirà a decifrarle a presto grazie a voi a presto a subito Marco Vannella c'è a subito questa è stata Res Pubblica Sicilia Chiama Europa arrivederci grazie a tutti